Io dico che a livello fotografico il fotografo vero è quello che non si fa vedere. Di scatti al suo attivo ne ha migliaia tra gli anni in cui è stato impegnato come fotografo del quotidiano La Nazione a tutti i suoi lavori che hanno riguardato 50 anni di carriera. Fondatore del fotoclub La Chimera, finalmente Bruno Tavanti sceglie di esporre alcuni dei suoi lavori più belli in una personale inaugurata lo scorso 30 aprile nei locali del fotoclub dal titolo Con gli occhi di Bruno. La sua preferita, che è anche in mostra, uno scatto che ritrae un tipico paesaggio toscano realizzato nel 1988 e che ha fatto letteralmente il giro del mondo. Questa fotografia è stata molto probabilmente gradita in Giappone. La Nikon, la fabbrica di apparecchi fotografici, la premiò, faceva il calendario e più mi mandarono anche del denaro. Chiacchierare con lui è come ripercorrere la storia di Arezzo e di tutti i personaggi che l'hanno attraversata. Ho fatto 75 anni il notaio di Arezzo, nel senso tutti i giorni a documentare un po' quello che fai tu, proprio 75 anni. Dico notaio per registrare la cronaca nera, bianca, rosa, giada, di tutti coloro. Tra gli aneddoti che ricorda con più piacere, la visita del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro ad Arezzo e quell'incontro con Lucio Dalla. Muovendoti per documentare la visita del Presidente mi trovai un po' in quella... e non so per quale motivo, forse, ma in modo involontario sfuggì alla sicurezza e mi ritrovai a un comune, nell'angolo lì della sala consigliare, ingessato di che non mi vuoi. In quel caso tutta Italia, vedeva me, cioè vedeva Scalfaro, vedeva me. Diciamo che riuscì a intrufolarsi per fotografare meglio il Presidente. Dico questo, poi Lucio Dalla ci siamo ritrovati qui a Tampolino, qui sotto le loggie, lui non camminava, che aveva una gamba come me, camminava. E qualcuno lo invitò ad andare nel terrazzino della Fraternità. Lui guardava a me, io guardavo a lui, come si fa? Dico, Dalla venga con me, io ho una gamba destra, lei ha la gamba sinistra, si prova tutte e due e poi c'è la rampa così, no? È certo. Io dico, è stato un grande perché poi è stato un signore, era presa con spirito. E lì insomma siamo messi a parlare, a raccontare delle sue cose, è stata un'esperienza interessante, umana, incredibile. Questa è una cosa che ricordo sempre molto volentieri. La mostra sarà visitabile il prossimo 8 di maggio, in occasione peraltro della 71esima foto antiquaria che si terrà in via sperimentale all'interno del Palazzo di Fraternità, in Piazza Grande.